Questo non mi piace. Il vento si sta alzando. Ho bisogno di sapere la vostra posizione. Per favore, aiutare noi. Io non ti mollo, resto con voi fino alla fine, qualunque cosa accada. La nave Corsair Medici scrive che si sta dirigendo verso l'obiettivo. Pronto, Omar, mi senti? Aiuto! Che succede? La barca sta andando giù. Avete giubbotti di salvataggio? No, Life Jackets. Omar! Yes, Sam!